Il sorriso è l'arma di seduzione più efficace, mantenerlo sano e perfetto è importante per il nostro aspetto esteriore e per la nostra sicurezza personale. Molti di noi avvertono disagio per i propri denti, piccoli difetti, inestetismi e problemi vari sono all'ordine del giorno. Fino a non molti anni fa, sistemare la dentatura era complicato, dispendioso, doloroso e poco grazioso da vedere, basti pensare agli antipatici apparecchi con stelline di metallo. Come per tutto il resto, anche l'ortodonsia moderna ha compiuto passi da gigante, sviluppando nuove tecnologie. Una di queste riguarda l'apparecchio invisibile per denti, ormai ampiamente diffuso in America, ancora poco conosciuto in Italia. Il rapporto conflittuale con il proprio sorriso, nel caso in cui non soddisfi completamente le nostre esigenze, potrà quindi essere risolto? Se sì, come? Continuate a leggere il post per scoprire ogni dettaglio. Apparecchio invisibile per denti, la mia esperienza. Ho deciso di parlarvi di quello che personalmente sto affrontando, sperando di risultare utile a qualcuno di voi. Ho denti sani e bianchi, di cui vado orgogliosa, seppur non perfettamente allineati. Una sorta di complesso trascinato da Hanni, nato dalla suzione prolungata del pollice durante il sonno quando ero bambina. Ho un morso aperto con palato stretto, i denti frontali risultano inevitabilmente leggermente sporgenti. Non ho mai portato apparecchi fino ad ora, causa prezzi elevati e disagio nell'indossare aggeggi ingombranti in bocca in età adulta. Come ho risolto? Ho deciso di accumulare quante più informazioni possibili sugli apparecchi invisibili, costi, opinioni, risultati, fino a compiere il grande passo. Ormai da un mese indossa gli allineatori invisibili, ecco nel dettaglio di che si tratta. Se siete interessati al trattamento, dovrete per prima cosa contattare un bravo dentista esperto in tale pratica, esistono diverse case produttrici, più o meno note. Le mascherine trasparenti funzionano tutte con la stessa metodologia, ciò che cambia è solo il brand. Verrete quindi visitati e valutati, anche tramite lastre, non è infatti scontato che il vostro caso sia trattabile con l'apparecchio invisibile per denti. Se sarete ritenuti idonei, il dentista prenderà l'impronta delle vostre arcate inferiori e superiori e darà il via alla produzione degli allineatori. Dopo circa un mese saranno pronti da indossare. Allineatori invisibili, si vedono? Sono dolorosi? Queste le domande più diffuse, a cui finalmente posso rispondere. Le mascherine sono quasi del tutto trasparenti. Personalmente le noto, non potrebbe essere altrimenti, tendiamo ad ingrandire ogni nostro difetto. Effettivamente nessuna persona con cui abbia avuto a che fare nell'ultimo mese si è mai accorta del mio apparecchio. Quando rivelo di indossarlo, ciò che mi sento rispondere è, dov'è? Non lo vedo. Posso quindi affermare che questi allineatori sono praticamente invisibili, se non a pochissimi centimetri di chi vi osserva. Sono vere e proprie mascherine rigide e trasparenti, discrete e impercettibili. I casi specifici, tra cui il mio, richiedono l'inserimento di attachment, ovvero mini attacchi di composto bianco identico ai propri denti, su cui l'apparecchio si aggrapperà per spostare meglio le corone. Si vedono? Alcuni sì, altri no. I miei sono impercettibili. Si notano di profilo, poiché la superficie appare modificata, frontalmente no. Conosco al contrario persone con attacchi ben visibili. Credo ciò dipenda dal dentista scelto. Veniamo alla nota dolente. Fa male? Inizialmente più che male si parla di fastidio. Appena indossato l'apparecchio invisibile per denti volevo piangere, pentendomi immediatamente per averlo comprato. Un corpo estraneo e in bocca non è mai piacevole, ma ci si abitua. Proprio come funzionerebbe con un piercing sulla lingua per esempio. Fortunatamente non mi ha causato taglio ove scicche. Anche la fonetica non ne ha particolarmente risentito. Qualche difficoltà durante i primi giorni pronunciando F.S. Detto ciò, inizialmente è stato assolutamente traumatico. A quasi un mese posso dire d'essermi abituata, ci sono giorni in cui avverto fastidio, altri dove mi dimentico d'averlo. Come funziona e quanto costa apparecchio invisibile per denti. L'apparecchio invisibile per denti è un dispositivo estetico, non cura le problematiche dovute a malocclusioni. Radici e scheletro non verranno modificati, servirà esclusivamente per allineare il sorriso. Gli spostamenti millimetrici dei denti sono lenti e continui, i primi risultati visibili avverranno dopo qualche mese. Le mascherine vanno cambiate ogni 2-4 settimane, secondo le indicazioni del vostro dentista. Ogni allineatore sposterà nuovamente i denti, costringendoli alle posizioni necessarie. Se osservo l'apparecchio del primo mese, paragonandolo a quello del settimo per esempio, la differenza è sconcertante. Al termine del trattamento, in genere di 1 o 2 anni, dovrete portare la contenzione, ovvero mascherine simili ma più rigide, da indossare. Ogni notte per almeno 2 anni per evitare che i denti tornino alla situazione di partenza. L'efficacia del trattamento è alta, purché ci sia costanza. Gli allineatori vanno indossati almeno 20 ore al giorno, levandoli esclusivamente durante i pasti. Per garantire un buon risultato, è consigliabile trattare sia l'arcata superiore, che quella inferiore. Non è possibile cibarsi con le mascherine indosso. Consumare tè, caffè o Coca-Cola per non macchiarle, è sconsigliato anche fumare. I denti vanno accuratamente spezzolati dopo ogni pasto, seppur piccolo. I costi dell'apparecchio invisibile per denti sono variabili. Attualmente il mercato propone diversi brand con prezzi per ogni tasca, che oscillano tra 1300 euro ed 7000 euro. La maggior parte dei centri offre pagamenti a rate, con prima visite gratuite. Personalmente ho speso 1700 euro totali, comprensivi di ogni cosa. Pro e contro. Quali sono i pro? È invisibile, non si nota non limita la vita quotidiana assicura un sorriso perfetto a prezzi accessibili l'apparecchio invisibile. È adatto a voi se, verrete ritenuti idonei per il trattamento avete interesse a correggere un problema esclusivamente estetico. Siete costanti e pazienti siete disposti a sopportare i fastidi iniziali quali sono i contro? Richiede tempo causa fastidi iniziali da non sottovalutare. Va sciacquato accuratamente ogni giorno con spazzolino e sapone per evitare ingiallimenti. Toglierlo e metterlo appare complicato durante le prime volte va levato prima di ogni pasto dovrete lavarvi i denti. Anche 5 volte al giorno è invece sconsigliato. Se avete situazioni di partenza gravi volete risolvere problemi scheletrici o malocclusioni dentarie complicate. Non sopportate l'idea di dover levare l'apparecchio ad ogni pasto, aperitivo, merenda eccetera. Non siete costanti e finireste con l'indossarlo poco e male. Pretendete risultati immediati spero di aver chiarito il funzionamento del prodotto aiutando chi, come me in passato, vorrebbe intraprendere tale strada ma conoscere poco al riguardo. Avete domande? Scrivete pure nei commenti, risponderò con piacere. Patrizia potrebbe interessarti anche, come rendere i denti più bianchi con l'aiuto del make up.